Mercato movimentato per il centro storico Salerno che anche quest'anno si è ben mosso sul fronte mercato. Entrano i Rosa Pisapia, portiere, Iorio centrocampista, ex Calpazio, esposito esterno alto, Giliberti difensore centrale. La squadra punta ad essere competitiva e la società ha cercato di revisionare i vari reparti per cercare innesti più incisivi. Così è stato, la Rosa del centro storico Salerno per l'anno 2018-2019 sarà molto competitiva e farà parte di un girone più competitivo rispetto agli anni precedenti. Il nostro obiettivo quest'anno è di fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, quindi l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo giro di ritorno e quest'anno contiamo di sfiorare i pre-off, questo è il nostro obiettivo. Davvero c'è stato per il centro storico Salerno una grande dinamica di mercato, un mercato che ha offerto la possibilità comunque di acquistare nuovi giocatori. In realtà alla fine lei come analizza questo girone considerando anche il vostro mercato? Il girone sono squadre nuove perché poi c'è chi retrocede e chi viene promosso. Posso parlare del nostro mercato che l'abbiamo rinforzato in tutti i reparti, mi ha preso un portiere in più, un altro centrale, un altro centrocampista e un attaccante. Quindi ci siamo rinforzati un po' senza confermare, confermando un po' tutta la squadra dell'anno scorso. Ecco, secondo lei giustamente rispetto agli anni scorsi e considerando pure che nell'area picentina c'è stato rafforzamento delle squadre, ci sarà più una competizione tra le squadre salernitane o una competizione tra le squadre del picentino? Beh io credo che alla fine siamo un po' tutti sullo stesso livello, da quello che so non ci sono squadre che hanno fatto un mercato, facciamo l'esempio della Scafatese l'anno scorso dai, o dell'Angria l'anno scorso. Io credo che quest'anno è più equilibrato rispetto all'anno scorso.